Ciao ragazzi, ho visto il video di Gerry, che continua con il suo bench press e non lo so, non ho capito cosa è questo video, ma se è vero, se non si competirà in l'anno di Julio con me è che è una p***lla p***lla, è una p***lla p***lla, perché ho preparato e questa è la seconda volta che mi ritirà e non dovrà mai avere un altro match con me questa è la ultima chance per lui, ho aspettato 3-4 ore per la risposta per lui se non si competirà con me, è solo un p***lla p***lla, perché sappia che lo perdereà con me questo è il problema, perché sappia che lo perdereà con me facile